Oggi 18 novembre alla mattina di questo sabato siamo al Cinemateatro Duomo dove c'è un evento molto bello organizzato dall'Accademia dei Concordi assieme agli amici dell'Accademia e Wallaby e si parlerà dell'intelligenza artificiale applicata in ambito artistico. Segnatamente è presente l'artista Joe Quasirosso che ha creato l'immagine che abbiamo messo sull'impalcatura in piazza Vittorio Emanuele II ed è un momento molto bello perché non solo si rifletterà su come arte e intelligenza artificiale possano andare assieme ma anche si dà la possibilità a ragazzi di molte scuole ed è per questo che siamo venuti anche al Cinemateatro Duomo perché ha una maggior capienza di poter innanzitutto conoscere l'artista che è molto noto tra i giovani ma anche per poter avere una qualche idea di come si possa fare arte attraverso uno strumento come il computer. Grazie a tutti!